e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi in versione intellettuale in realtà perché non avevo neanche voglia di mettermi le lenti a contatto perché sono abbastanza fulminato ecco sono in pieni postumi da terza dose avevo giusto 38 di febbre fino a un paio d'ore fa ma non si molla questa è la vera dedizione o forse anche un po essere malati però vabbè siamo sempre lì siamo sempre sul pezzo anche perché ragazzi oggi vi volevo mettere in fomo per l'annuncio è l'annuncio di un annuncio questo sto veramente degenerando in una maniera incredibile e l'annuncio dell'annuncio che ci sarà domani cioè io oggi vi ho annunciato dappertutto che domani farò un annuncio quindi state sul pezzo alle ore 10 di domani mattina fomo mode on guai a chi non è sul pezzo perché si perde veramente l'annuncio della vita al di là di questo non c'è niente di interessante nel mercato perché a bitcoin lateralizza non è vero però che non c'è niente di interessante però perché alcune altcoin sono belle cariche ormai abbiamo capito i trend no li abbiamo capiti talmente tanto che un po mi spaventa vi dico la verità perché non lo so mi è sembrato tutto un po troppo facile facevo la riflessione prima e l'ho condivisa anche con voi su twitter ho detto caspita cioè ma è troppo fatto troppo bello per essere vero no che ti sembra di aver capito il trend in questione tutto va come previsto va molto bene tra l'altro non lo so a me si rizzano sempre le antenne quando vedo situazioni di questo tipo però nel frattempo ce le godiamo assolutamente i trend in questione come sempre sono quelli della nuova defy della defy 2.0 chiamiamola come vogliamo quindi le dao le curve wars il bribing e adesso secondo me c'è un nuovo trend in agguato che vale la pena seguire e vale la pena tenere d'occhio che è quello delle opzioni defy cioè i protocolli defy finalizzati alla creazione e all'acquisto barra vendita quindi di opzioni il mercato no si può sia fare da writer di opzioni quindi crearle depositare il sottostante il collaterale noi abbiamo dei btc lo depositiamo oppure degli eth eccetera li depositiamo sulla piattaforma in questione e la piattaforma quindi eroga delle opzioni basate proprio su di esso noi però facciamo da controparte oppure possiamo essere coloro che acquistano poi in seguito le opzioni basate proprio sui collaterali in questo caso di terzi come mai sto dicendo questo adesso a breve approfondiamo vi ho preso un paio di fonti interessanti a fini proprio di di approfondimento e di studio di questo topic che secondo me farà veramente tanto parlare di sé nel prossimo futuro ma perché innanzitutto il mercato delle opzioni è estremamente liquido non so se avete presente il mercato dei checks delle opzioni deribit alla fine si tratta solo di deribit ma muove ci sono degli open interest che sono enormemente maggiori anche di quelli dei future e dei perpetual e inoltre con le opzioni e la defy insieme si può sbloccare nuovi livelli di malattia nel farming perché si può andare a farmare appunto nei pool contenenti opzioni coprire le proprie posizioni di farm con delle opzioni oppure addirittura come vi ho parlato di dopex l'ultima volta si può andare a creare delle opzioni sui tassi di interesse dei pool della defy e immaginatevi le infinite combinazioni che si possono avere in questa direzione a me sembra che ultimamente i trend da seguire non siano più quelli per avere veramente un vantaggio sul mercato generale non sia più da andare a cercare il retail che cosa vuole a che cosa è interessato e tutti quei settori lì delle masse ma soprattutto nella defy andare a capire che cosa interessa ai veri smart money che di fatto sono i protocolli quindi cercare di capire quelle coin quei token nonché quelle piattaforme che sono di interesse di utilizzo per altri protocolli le dao le treasury dao che ormai sono un trend abbastanza decollato no olympus dao wonderland e simili ognuna col suo perché quelle dao sono diventato un po i nuovi non so come definirle ma sono sono delle whale di fatto delle whale importanti che direzionano fortemente il mercato della defy sono un po i nuovi protagonisti della defy ne stanno nascendo in continuazione su varie chain ripeto con vari scopi e loro muovono capitali ingenti e tendono ad accentrare in loro tantissimo la liquidità quindi andare ad osservare le nuove che si sviluppano come si sviluppano e che cosa fanno e che cosa vogliono soprattutto secondo me è un po la chiave per andare a capire quei trend ancora magari nascosti a tal proposito a breve vi tiro fuori due chicche qualche ho trovato una nuova dao incentrata proprio sul sul mercato delle opzioni che sembra voler entrare a gamba tesa nel mercato delle opzioni andiamo a vedere un po le piattaforme principali di defy opzioni in arrivo tra l'altro a breve c'è anche una ieo su ftx proprio di una piattaforma di opzioni manco a farlo apposta su solana e che dire basta poi andiamo un po vedere ragionamenti vari più o meno interessanti nel nel mercato nella defy e nelle coine nei trend che ultimamente stiamo seguendo insieme li andiamo ad approfondire step by step sempre di più sempre che non collasso prima della fine del live quindi mi sono ho la mia fida compagna acqua ghiacciata che mi tiene compagnia ma come vedete è già quasi terminata perché un po la fomo dell'annuncio dell'annuncio e un po il fatto che insomma il calore oggi anche dovuto proprio alla alla febbre stessa quindi siamo non siamo sul pezzissimo ma noi ci proviamo lo stesso partiamo da una breve analisi della situazione di bitcoin a il tutto non ve l'ho detto ma sarà anche condito con le vostre domande spero che abbiate sempre quantità industriali di domande da fami travolgetemi di domande allora dicevo andiamo a dare un'occhiatina veloce a bitcoin perché ripeto non c'è veramente nulla da dire una noia mortale mercato completamente laterale sempre all'interno di questo range non si capisce se c'è dominanza di domande offerta perché di fatto quando l'offerta prova a spingere no a far uscire dal suo range a ribasso bitcoin la domanda reagisce e dice fermati un attimo stai lì stai lì però reagisce non abbastanza perché comunque non abbiamo nemmeno un bounce di questo tipo cioè non siamo nemmeno andati a provare a riprenderci il range high cioè veramente fiacca è fiacchissima la domanda per fortuna anche l'offerta non sembra particolarmente aggressiva perché ripeto a parte quando la domanda ha provato a prendere un po il sopravvento che allora lì babam è arrivata la legnata dell'offerta che ci ha rispediti da dove siamo arrivati ma fortunatamente in quest'area l'offerta non bastona più di tanto anche perché vi ricordo che quest'area ha un ruolo decisamente importante su sulla price action cioè se l'andiamo a perdere il target prossimo è quest'area 41 42 mila che di fatto va a marcare un equal low il che già di per sé non è proprio fantastico se perdiamo anche questo livello maledizione la struttura viene severamente compromessa ciò si vede meglio sul settimanale il settimanale vabbè adesso siamo a metà settimana quindi è prematura qualsiasi osservazione però possiamo notare come ci sia quest'area di congestione innanzitutto adesso stiamo un attimino violando il range low settimanale ma ripeto è mercoledì quindi c'è ancora tempo ed è prematura qualsiasi considerazione sul sul rapporto tra la price action attuale e la chiusura settimanale che ancora distante ma vediamo come i 43 mila e due siano sempre il nostro low tack equal low in questo caso settimanale sul quale sotto il quale c'è domanda e però ahimè se lo andiamo a prendere facciamo di fatto un equal low voi direte ma che cosa cambia già adesso siamo bene o male lì è vero ok non c'è tutta sta differenza si parla di 3000 dollari però avere un bel higher low così tiene una struttura di un certo tipo anche se non stiamo parlando di una differenza abissale ripeto però abbiamo comunque una struttura un pelino più bullish un pelino più solida chiaramente il grosso poi del lavoro lo farà la ricerca dell'hai che faremo dopo al all'aver trovato il low quindi che la troviamo qua e iniziamo a rimbalzare che andiamo fin qua e poi iniziamo a rimbalzare o ahimè che andiamo più giù e poi iniziamo a rimbalzare poi dovremo cercare anche l'hai per definire una nuova struttura chiaro è che più scendiamo con il low e più diventa probabile che anche l'hai conseguente sia un po più in basso perché l'offerta ha una una posizione di maggior vantaggio e quindi capite anche voi che avere una con un costrutto di questo tipo e quindi avere un lower high e lower low abbastanza tra l'altro marcati è molto peggio che avere ad esempio un low qua e poi un high qua capite che poi si può andare verso uno scenario più tendente all'accumulativo le speranze sono ancora vive perché è presto per disperarsi è ancora tutto da vedere deve la domanda deve farsi vedere deve tenere botta e insomma dobbiamo cercare di creare veramente una bella zona di low qua una bella zona di domanda e ripartire ripartire vuol dire andare a recuperare i 52 53 mila questa resistenza è il nostro la nostra soglia no per andare a definire il movimento come un inizio di storno rialzista cioè se non recuperiamo nemmeno quel livello lì rimaniamo all'interno del range se ci riprendiamo perlomeno i 52 53 iniziamo a stornare un po iniziamo andare a cercare appunto il nostro high che ci spetta tra l'altro le ultime volte abbiamo fatto anche un'altra considerazione che secondo me è molto interessante che è quella sui volumi rimane tale perché guardate qua questa zona 45 50 mila è un'area in cui ci sono volumi veramente alti e quindi vuol dire che è un'area o di estrema accumulazione o di estrema distribuzione a seconda della direzione in cui poi ci spingerà tutto da vedere ma abbiamo capito che le prossime reazioni di bitcoin a rialzo a ribasso che siano saranno assolutamente decisive non a caso i volumi si stanno contraendo la volatilità si sta contraendo saprete anche voi presumo che è ciclico il mercato a fasi espansive fasi contrattive siamo in una fase fortemente contrattiva a me piace anche utilizzare le bande di bollinger per andare a vedere questo no indicatori tac bande di bollinger e allora beh sul daily forse ha un attimino ancora in ritardo però sulle quattro ore ad esempio già si vede l'inizio di contrazione insieme ai volumi che anch'essi si contraggono e questo chiaramente va a delineare una situazione di scarsa volatilità allora quindi insomma più violento più probabilmente cioè è probabilmente più violento il movimento che seguirà a prescindere dalla direzione bene adesso che abbiamo visto un po la situazione vi volevo anche far vedere la total market cap che giova un po della situazione al coin non oggi in realtà però guardate è un attimino migliore perché l'ultima l'ultimo lo è leggermente più alto mentre su bitcoin vedete abbiamo una situazione di range puro e quindi qualcuno mi ha fatto notare ma guarda la total market cap è più bullish soprattutto scusate volevo cancellare quelle linee soprattutto se la si guarda anche su time frame più più ravvicinati tac allora io non sono tanto un fan di queste analisi estreme no sulla total market cap che ci sta a grandi linee per andare a identificare la situazione nella quale ci muoviamo ma senza volerla forzare troppo è comunque un dato molto più approssimativo rispetto alla price action della dell'asset in questione c'è da dire che sulla total market cap in particolare sul weekly abbiamo il liquid low più in basso qui a 2 trillion adesso siamo a 2.2 e pertanto se riusciamo a rimanere qua dentro vedete che la situazione di higher low è comunque conservata quindi vabbè un qualche dato in più ce lo dà però non aggiunge tantissimo perché abbiamo comunque la situazione di equilibrio vedete tac tac è tutto tutto da vedere tutto da vedere speriamo che la prossimo il prossimo spunto sia rialzista ma adesso c'è un bel dumping diretta volete vedere che dampiamo in diretta già che ci siamo che bello è una volta che ho detto ma la faccio non la faccio la live oggi ce la posso fare cioè non ce la posso fare ho deciso di sì e vedrete che damperà tutto comunque noi ridiamoci su e andiamo avanti e vediamo un po le notizie del giorno allora fomo mode per domani l'abbiamo visto la io di ftx allora psy options è una piattaforma di opzioni per l'appunto su solana dove si può andare a comprare vendere opzioni call e put quindi è una marketplace di opzioni un exchange di opzioni decentralizzato molto interessante proprio perché si pone in questo trend nascente e quindi io le sto seguendo tutte queste piattaforme dopex questa qui katana poi c'era be quella dao di cui vi parlo tra poco e non non mi espongo ancora vi dico la verità ovviamente provo a partecipare alla io di ftx ma perché è praticamente un 10 per garantito non so se avete presente i risultati passati ma al di là di quello non ho intenzione di comprare a mercato ad esempio dopex o cose simili perché sono ancora in fase di osservazione mettiamo laggiù così però è un trend interessante allora psy options ve l'ho detto è un index di opzioni come funziona la io solito metodo a lotteria allora sapete che su ftx è necessario avere gli ftp per partecipare a queste lotterie in particolare qua è necessario averne almeno 150 se non avete in staking almeno 150 ftp sull'exchange non potete partecipare neanche con un ticket oltre i 150 più ne avete e meglio è in particolare questa è la come dire la la tabella di di partecipazione se ne avete 290 due ticket 420 3 ticket e così via fino a un massimo di 6 ticket con 750 ftp un ticket da diritto a 5.000 token ps y quanto valgono valgono l'avevo letto da queste parti dunque considera eccolo qua 0,12 dollari allora il il funzionamento dell'asta poi cioè c'è anche un sistema d'asta cosa vuol dire che oltre ad avere gli ftp in staking occorre andare a settare un prezzo cioè quanto sia disposti ad offrire per per poter vincere no per poter ottenere il biglietto vincente questo prezzo va tra i 500 i 600 dollari più 5 ftp chiaramente se si vuole avere una speranza di partecipare vi dico già che se non si offre il massimo non la sia perché funziona che prima si soddisfa chi offre di più e poi eventualmente chi offre di meno nelle ultime io non so se qualcuno di voi ha partecipato ciò che è accaduto è che c'è stata totale saturazione già di della massima offerta quindi già loro c'era l'estrazione da fare quindi andava a fortuna chi aveva offerto di meno era automaticamente escluso proprio perché l'offerta era troppo bassa quindi 600 dollari più 5 ftp per un ticket non preoccupatevi che se poi il non riuscite ad ottenere il ticket vincente vi rimborgio non è che vi portano via i 600 dollari e gli ftp vengono comunque restituiti e basta e i ticket vincenti saranno 2000 mamma mia cioè esclusivizza sta roba veramente se se si riesce per disgrazia a vincerla parte un per 20 minimo follia 2000 ticket mi immagino soltanto la domanda soprattutto adesso che ftx è anche cresciuto come come bacino di utenti ogni ticket appunto da 5000 token da 0 e 12 l'uno quindi 600 dollari e poi ci sono i 5 ftp extra tutti gli ftp raccolti verranno bruciati e basta questo anche dato un pelino di spinta dove l'ho detto adesso da tutto ha dato anche un pelino di spinta a ftp nei giorni scorsi che ho visto che insomma vista la ie o ci sono stati probabilmente un po di acquisti di chi cerca di partecipare a tutti i costi bisogna aver fatto anche il che vuoi sì e avere chiaramente l'account la data non vi ho detto la cosa più importante sarà il 18 di gennaio tra le 14 e le 15 italiane utc più 1 ok in quel periodo lì si potrà biddare quindi fare l'offerta e poi si estraggono i vincitori bisogna avere in staking attenzione gli ftp il giorno prima il 17 entro le 14 quindi fatevi trovare sul pezzo se non avete un account su ftx arriva la scillata di obbligo vi lascio il mio referral link con il quale avrete anche il 5 per cento di sconto sulle fee per sempre perché al di là di tutto è un gran buon exchange che insomma è ie o o non ie o vale la pena utilizzarlo bene questa è andata poi cosa abbiamo allora le opzioni ecco allora io qui vi ho trovato va beh c'è questo thread che è un pelino se vogliamo avanzato magari non ne parliamo adesso però vi volevo far vedere no questa è un'altra cosa vi volevo far vedere le le piattaforme principali di opzioni a parte che questo profilo su twitter secondo me vale la pena seguirlo perché è abbastanza sul pezzo nel mondo punto di dopex opzioni eccetera eccetera e sapete io reperisco la maggioranza delle informazioni su twitter poi ve le condivido vi condivido tutto non preoccupatevi però la mia fonte principale è twitter di certo non si può pretendere di trovare dell'alfa quindi queste informazioni vincenti un po più diciamo che che danno un vantaggio sul mercato su coindesk su su cointelegrafo su quelle spazzature li equivalenti cioè non c'è li trovi shiba inu ha fatto mille per le informazioni vere le trovi ecco se se sai scavare no e quindi qua c'erano alcuni thread interessanti ma io da bravo svarionato non non me li sono preparati mi sono preparato quello quello che era troppo complicato comunque niente dateci un'occhiata a questo profilo perché ne vale la pena e ci sono un po di approfondimenti validi anche sul topic proprio delle opzioni stesse allora io ve l'ho detto dopex ne abbiamo già parlato katana è un'altra piattaforma interessante secondo me ma al di là dell'investire nella piattaforma stessa per utilizzarla perché ad esempio su katana è possibile vedete andare a operare come covered call oppure protected put dov'è put selling queste qua e in sostanza queste possono essere delle alternative allo short di copertura vi spiego anche come guarda prendiamo l'esempio di bitcoin con bitcoin qui viene implementata a scade cioè rinnovata ogni scadenza questa strategia di covered call ovvero viene venduta un'opzione call con strike price definito qua cosa vuol dire l'opzione call in sostanza profitta nel momento in cui il prezzo di bitcoin a scadenza è superiore allo strike price è un'opzione rialzista noi la stiamo vendendo quindi chiaramente subiamo un danno qualora ciò avvenga però chi compra l'opzione paga un premio e il premio lo paga ovviamente a chi va a vendere questa opzione queste sono un po le due controparti questo combinando due cose uno l'utilizzare uno strike price sensato che non sia troppo rischioso e due il volume che si può generare per quell'opzione in quello strike price può creare un profilo rischio rendimento che ha senso oppure no quindi se abbiamo uno strike price a ridosso del prezzo attuale la situazione è bullish e l'APY proiettato quindi i volumi stimati della compravendita di queste opzioni è bassissimo zero senso se al contrario lo strike price non è vicinissimo la situazione di mercato non è più di tanto bullish e l'APY proiettato è allettante allora ciò inizia ad avere senso però vi ricordo che si ha un'operatività tendente alla lateralità barra ribassista ovvero noi andiamo incontro a una potenziale perdita qualora il prezzo di bitcoin a scadenza va a superare lo strike price con DOPEX avevamo delle epoche di un mese ovvero le scadente vanno di mese in mese e se io deposito bitcoin nella strategia covered call su DOPEX non c'è c'era ethereum vabbè facciamo finta ethereum per un mese non lo posso ritirare perché altrimenti c'è troppa volatilità nel sottostante nella quantità di sottostante e la piattaforma rischia e poi di non riuscire a garantire l'assolvibilità dell'opzione stessa mentre su katana l'epoca è di una settimana e quindi abbiamo anche una situazione più semplice perché ogni settimana poi viene ribilanciato lo strike price il loro obiettivo è avere uno strike price che non viene raggiunto però neanche troppo elevato perché altrimenti non c'è mercato per l'opzione comunque questa è una sorta di short di copertura perché annualizzato ad esempio va a rendere il 40,06% e il rischio di perdita è se bitcoin è sopra lo strike price al momento della scadenza perché ovviamente le opzioni scadono si dice in the money avendo un profitto per chi le ha comprate e una perdita per la controparte che siamo noi quindi questa è una strategia che si può andare ripeto a impostare come una sorta di copertura è un edge di fatto il cover call è un edge funziona molto bene nei mercati laterali funziona bene nei mercati ribassisti da una rendita su bitcoin con queste condizioni ok quindi ve la segnalo ed è interessante poi come piattaforma poi in realtà allora andiamo a prendere la da Jones Dow si chiama qualcosa del genere allora aspettate che la cerchiamo eh Jones, eccola qua, no Jones Dow, eccola qua è quella nuova Dow che vi dicevo che sto seguendo per riguardo al mondo delle opzioni loro sono interessati a dominare un po' questo settore a fare market making perché anche lì sarà un mercato abbastanza come dire il market making di opzioni è da sempre anche nel mondo centralizzato un mercato molto profittevole soprattutto se si sa quello che si sta facendo e in questo caso con i DEX c'è ancora più opportunità di arbitraggio da un lato e in seconda battuta le Dow magari vogliono esporsi in qualche modo per proteggere loro altre posizioni loro sono come dei grossi fondi vanno immaginati così e quindi i prodotti derivati per loro sono un qualcosa di assolutamente indispensabile loro fanno ecco vedete qua ci sono dei thread di approfondimento dove spiegano un po' le intenzioni che ci sono dietro al fare market making di opzioni ma l'obiettivo ripeto è sempre quello soprattutto dal punto di vista di quando ci sarà la possibilità di fare di creare opzioni sui tassi di interesse sarà possibile coprire addirittura le posizioni di bribe quindi andare a corrompere per avere il tasso di interesse più alto o più basso su un pool di curve e nel frattempo operare in leva su di esso andando a esercitare una call un'opzione call sul tasso di interesse oppure vendendo una call ci si copre ad esempio dall'opposto comprando una put allo stesso modo comunque vi suggerisco di dare un'occhiata anche a questa proprio perché è insomma un approfondimento ho visto che sono già aumentati i follower quindi qualcuno di voi sta già facendo i pin sul loro twitter fate i bravi mi raccomando io non ho ancora nessuna intenzione di entrare in questo in questo ramo sono ancora diciamo fermo alle allo step precedente ma lo sto approfondendo un po' alla volta lo approfondiamo oggi mi sarebbe piaciuto approfondire un po' di più ma insomma le energie erano quelle che erano e poi andiamo avanti con le con altre notizie altre cose perché altrimenti qua non non parliamo d'altro poligon ha avuto un po' di problemi tecnici si parla sempre solo di solana che è intasata mica intasata ma anche poligon ogni tanto inciampa poligon ha il problema tra virgolette di avere comunque delle fie estremamente basse quindi costa poco intasarla in altre parole c'è stato un giochino che si chiama sunflower farmers una sorta di farming simulator tipo farmville simili che di fatto è un classico giochino farm to earn non so come si chiamano no quei play to earn così con gli incentivi economici strutturati in un certo modo ma in me questa struttura di incentivi favoriva tantissimi bot a spammare transazioni a manetta pam 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 transazioni tra l'altro abbastanza consistenti queste transazioni hanno intasato completamente il network che è da qualche giorno adesso non so se la situazione è migliorata vediamo su poligonscan.com gas tracker eccolo andiamo a vedere se è no vedete non è ancora migliorata perché abbiamo comunque del average utilization altissima vedete è completamente satura abbiamo una coda di transazioni costantemente piena e abbiamo questo contract che è proprio quel giochino lì che spende una quantità di gas folle e questo è un po' il problema di di poligon non costano così poco le transazioni che spammare il network fino a saturarlo non è così complicato quindi niente ve lo volevo solo condividere perché è un fatto interessante e fin tanto che non si fermerà questo incentivo per i bot a spammare come pazzi il network non desaturerà poi cosa vi ho preparato di bello ritorniamo nel nostro mondo fantastico delle curve wars perché domani cioè a mezzanotte di stanotte c'è il prossimo round di bribe su votium dunque qualcuno mi aveva chiesto ma come funziona da dove devo metterli in staking allora il funzionamento è il seguente votium si appoggia a convex ok servono i vl cvx che sono i vot locked cvx il che significa avere cvx su convex bisogna andare su lock cvx e andare a loccarli i cvx vengono trasformati in vl cvx e sono bloccati per 16 settimane questi vl cvx poi ce li avete chiaramente nel wallet nel frattempo guadagnate un 4% che vabbè è abbastanza miserabile ma non è certo quello che ci interessa perché con i vl cvx su votium potete andare a vendere il vostro potere di voto al miglior offerente e viva e viva la corruzione perché di fatto vedete ci sono questi round il prossimo dei quali parte domani attraverso i quali non so se vi ricordate l'ultimo dove c'era chi vuole in sostanza arriva e dice guardate io ti do questi token se tu con i tuoi voti voti questo pool il mio pool sono i pool di curve sempre e quindi c'era terraform labs che offriva dei luna per il pool di ust c'era il buon danielone che offriva spell per il suo pool di meme e alla fine chiunque ha voglia di utilizzare le reward di curve per andare a boostare la sua liquidità briva come un pazzo su votium io mi aspetto allora qua c'era il prospetto degli ultimi round vedete questo è l'ottavo round lo scorso round dove erano stati offerti questi token vedete fxs 7,43 milioni di fxs a chi votava il pool frax su curve 3,14 milioni di spell più 1,01 milioni di dollari in luna per chi votava meme ust i convex per chi votava il pool cvxth e così via vedete se noi andiamo adesso su curve indovinate quali sono i pool che al momento hanno maggior reward vediamolo subito acqua ghiacciata intanto eccoci allora vediamo vediamo un po' dov'è 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 frax eccolo qui vedete frax 5,53 13,81 veramente alto poi quali erano gli altri meme ust vedi meme ust 6,59 16,48 altissimo cvx crv 8,33 20,82 perché è braibato anche quello da convex crv e th uguale e poi chiaramente questi sono i bribe ma non sono solo i bribe che vanno a determinare la reward perché in parte si bribe per comprare i voti altrui delle masse in parte si utilizza i propri per andare a boostare quindi la combinazione delle due cose poi risulta in una maggiore o minore ricompensa se fate caso andando indietro con i round ce n'è sempre meno di bribe è un trend crescente nel round 6 ogni vl cvx fruttava all'incirca 40 centesimi mentre nel round 7 sempre 40 nel round 8 più del doppio 0,87 proprio perché questo trend è iniziato a esplodere quindi vl cvx per gli staker di cvx frutta di più cioè vuol dire che si guadagnano 87 centesimi di dollaro per ogni cvx che si è loccato e si è delegato il tutto in un round quindi questo se lo si annualizza si arriva a un 60% buono pagato nel token a propria scelta ad esempio spell, luna, fxs eccetera e ci sono proiezioni di bribe sempre più ingenti nel prossimo futuro proprio perché ci si è resi conto del potere che questo ha se guardate infatti nelle overview si nota come per ogni dollaro speso in bribe abbiamo 2,59$ di emissioni e questo è abbastanza notevole direi che è 2,5 volte più efficiente rispetto che andare a fare il liquidity mining con il proprio token quindi se si vuole partecipare vl cvx da delegare anche mi raccomando ricordatevi anche di fare delegate quando avete già i vl cvx così domani dovete solo scegliere domani e nei prossimi giorni finché dura il bribe dovete solo scegliere quello che vi aggrada di più e questo è quando poi cosa abbiamo? ho trovato questo pool carino che fa vedere il numero di cvx accumulati dalle dao nel tempo come vedete c'è frax che è crescente lineare poi è arrivato badger dao poi è arrivato questo grigio qual è? olympus dao poi terra ultimamente sta accumulando dei cvx perché si è reso conto redacted che è questo grigio qua in realtà sta accumulando cvx anche loro da 790.000 adesso ne hanno 923.000 e poi wonderland anche lui anche se recentemente ne ha venduto qualcuno insomma vedete che la tendenza è crescente e ha iniziato a esplodere a ottobre a inizio cioè esponenzialmente a novembre a inizio novembre prima ci giocavano in sostanza solo badger e frax e quindi niente interessante questa cosa qui fa vedere il valore probabilmente numerico anche delle DAO market share eccetera è la stessa cosa in salse diverse poi ultima dov'è 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 ultima cosa ultime cose abbiamo un nuovo supercharger golosissimo su luna cioè su su crypto.com ovviamente si depositano cro e si farma luna tra l'altro hanno messo questa novità su crypto.com che nei supercharger ci saranno 20 no quanti vediamo 10 partecipanti vinceranno un NFT supercharger 20 per booster che moltiplicherà di 20 volte le loro ricompense quindi in bocca al lupo perché 10 su tutti i partecipanti ci vuol veramente una fortuna non indifferente però a prescindere si ha una bella un bel APY in luna cosa vuoi di più dalla vita con i cro che hai svincolati quindi non è male se ad esempio uno cioè che non so chi di voi utilizza intensivamente la carta di crypto.com cashback in cro liberi li si butta su supercharger e via è vero che adesso ci sono opportunità su cro non indifferenti ecco la DeFi su Kronos però qui si farma luna non è malaccio non è affatto malaccio poi c'è da vedere quanto sarà l'APY effettivo inizia oh cacchio è iniziato oggi è iniziato oggi molto bene andiamolo a vedere allora l'APY effettivo così vediamo se vale la pena o no allora il nostro Matt Damon sempre sul pezzo allora da 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 dov'è su exchange mi sa exchange home ci arriviamo è supercharger APY stimato fino a 30 ecco il 20x però mannaggia mannaggia probabilmente sarà un 2% allora super giù sarà un 2% di APY è il bello che ha pagato in luna quindi non so se qualcuno di voi ha una balena di cro sicuramente può valerne la pena poi l'ultima cosa che mi avete chiesto sulla quale vi voglio rispondere riguarda Tokamak che si è svegliato oggi non so come mai ha deciso di pompare del 20% giuro non c'entro non è colpa mia mi avevate chiesto come si mette in staking allora ve lo faccio vedere è molto semplice allora occorre avere i Tok chiaramente come prima cosa poi qua si fa stake and vote vedete li si deposita li si mette in staking e una volta che sono in staking occorre poi andarli a distribuire sui reattori quindi il proprio potere di voto in Tok va distribuito sui vari reattori chiaramente conviene scegliere i reattori con APR più alto tutto lì adesso non c'è ancora la possibilità di fare da liquidity director ma a breve ci dovrebbe essere tra l'altro anche qua c'è il signor Tokamak che è molto bullish ha tirato fuori delle perle aspettate che ve lo vado a tirare fuori liquidity wizard che personaggio che ha allora eccolo qua e tra l'altro anche questi articoli vi consiglio di seguire Tokamak se vi interessa il mondo Tokamak seguitelo ne vale la pena ne vale assolutamente la pena e insomma il loro obiettivo è di hanno visto la dinamica delle curve wars vogliono migliorare la cosa cioè anziché curve che secondo loro è un po' dispersivo e compuso vogliono essere loro un po' l'equivalente che dirige la liquidità è un po' il fulcro di tutta la liquidità per cui gli altri protocolli combatteranno quindi questo è un po' l'obiettivo ecco e liquidity wars infatti le chiamano e poi ogni tanto è super super bullish sulle varie cose e tra l'altro hanno delle partnership interessanti con alcune tra le DAO più importanti del panorama come Frax che Frax porco cane l'ho missato clamorosamente non l'ho studiato in tempo e ha veramente decollato e ha un ruolo tra l'altro di assoluto protagonista adesso peccato me lo son proprio perso allora adesso è il momento direi delle vostre domandozze quindi chiudiamo tutto ciò pam 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 torniamo sul graficozzo forza dai bitcoin fammi fammi sto favore non mi dampare in diretta mi basta quello per oggi mi basta quello va bene allora allora come funziona il supercharger il supercharger basta depositare i cro nel supercharger e basta ci sono 45 giorni di periodo di deposito e dopo 45 giorni di periodo di ricompensa quindi tu depositi e dopo i 45 giorni in base a quanto tempo e quanti cro hai depositato nel periodo di ricompensa ti paga e quello è potenziale di crv eh ragazzi miei potenziale di crv secondo me è abbastanza alto adesso che tra l'altro curve sta introducendo tutti i pool v2 ci arriviamo i pool v2 sono quelli tra l'altro aspettate c'era un altro tool mannaggia v2 tracker no v2pools.com eccolo qua i pool v2 sono quelli contenenti coin diverse tra loro cioè non solo stable stable non solo le versioni pegate diverse di btc eccetera ma anche ad esempio la tricripto la cvx crv la dovera c'è cvx e th da qualche parte eccola qua vedete v2 c'è scritto v2 di fianco e questi puntano a far direttamente concorrenza uniswap perché uniswap è il suo competitor il dex con la d maiuscola i due grandi dex sono curve e uniswap le pool che vedete con la scritta factory vuol dire che sono pool create da chiunque adesso chiunque può creare una pool factory vedete da qua factory create pool tac però non v2 ok si può creare chiunque può creare una pool factory che non sia v2 quindi con gli asset stabili tra loro tra non molto sarà possibile creare le pool factory anche v2 e questo estenderà di brutto gli use case di curve e quindi la domanda per il voto il potere di voto sui propri pool perché se chiunque immaginatevi olympus dao immaginatevi queste grandi dao è uno scenario che abbiamo già dipinto che creano il loro pool om e th non lo so butterfly e th eccetera eccetera e vanno a braivare a manetta per andare a dirigere le ricompense in crv sul loro pool cosa succede? succede che devono trovare il modo di ottenere potere di voto e quindi creare domanda cioè o detenere direttamente curve cvx come sta facendo appunto redacted che è il suo obiettivo è proprio quello oppure fare dei bribe ancora più golosi che incentiverà ancora di più alloccare cvx ed è veramente un circolo vizioso secondo me questo è una flywheel che può funzionare poi entrare ora in eth cosa ne pensi? beh dipende dal tuo obiettivo sempre dipende dal tuo obiettivo lato speculativo ha reagito bene a questo retest di nuovo però non riesce a fare un higher high quindi speculativamente è ancora un po' fiacchino anche se caspita ha performato sul dollaro ha performato da dio proprio perché avevo visto che ha chiuso l'ottavo trimestre consecutivamente in positivo folle ha sovra performato bitcoin su questa metrica e vabbè quindi attenzione attenzione ormai mi esalto con un più 1% ragazzi cioè stiamo veramente finendo malissimo siamo al degenero più totale no comunque dicevo riguardo eth il discorso è che se è per un investimento non è che devi dire voglio entrare prima dopo oggi domani ieri bisogna strutturare una strategia sul lungo termine se è lato speculativo ci vuole il setup e al momento sai non lo vedo ancora tantissimo il setup perché non c'è una struttura ben definita se andiamo a perdere questa zona questi questi low abbiamo un costrutto di top molto forte altrimenti se andiamo a fare un bel higher high c'è la possibilità di andare a estendere ancora tra l'altro volevo fare un bel video su ethereum tra poco dove andiamo a ricapitolare un po' la situazione del 2.0 di come vanno le cose e così via me l'avete chiesto e ho intenzione di farlo poi dunque cos'altro abbiamo da dire beh qua volendo si può giocare d'anticipo se uno è proprio vuole proprio ama il rischio ecco andando a mettere uno stop loss qua sotto perché l'importante è non andare a chiudere qua sotto perché in tal caso abbiamo il costrutto di top altrimenti la situazione vabbè non è male anzi è attendente al bullish e questa potrebbe essere anche una bull flag quindi dipende da che punto lo si vende poi allora 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 vediamo perché tonic continua a dampare perché quelle coin lì farmabili all'inizio di solito hanno un'emissione veramente immensa cioè vengono inflazionati tantissimo ne vengono emesse una quantità industriale e questo chiaramente va a creare una selling pressure costante sul loro prezzo motivo per cui quelli lì sono un token da farm and dump tonic ci ha provato in tutti i modi perché ti fa pagare un occhio della testa il claim stanno cercando di far di tutto per per farti evitare il dump però ahimè rimane un token che al momento non holderei magari se ne parla tra un anno due anni quando la l'inflazione diminuisce quello è il discorso poi ciao Luca mi sono appena connesso puoi ripetere dall'inizio grazie molto volentieri guarda lì su shiba dicevo allora shiba safe moon flochi inu dogelon mars e belp soprattutto belp queste sono le coin del momento allora poi 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 dunque Luke buonasera volevo comprare Atom ma Atomic Wallet non funziona bene ultimamente sapresti consigliarmi un buon Dex e su osmosis puoi comprare e dipende con che cosa più che altro dipende con che cosa crosta per dampare come mai come mai come mai usdt cro deve anche lui strutturarsi cioè qui abbiamo un equal high abbiamo un po' un range adesso però in una fase di storno cioè c'è da capire se adesso vuole ripartire a rialzo o stornare ancora quindi non lo so io per il momento lo sto a guardare sinceramente sinceramente cro nel lungo termine come lo vedi accumuleresti come luna e solana ma guarda ti dico la verità cro secondo me ci sta cioè i valori fondamentali ci sono c'è dietro crypto.com è farmabile cioè scusate è mettibile a rendita adesso in vari modi con rendite anche notevoli quindi è valido è valido e tuttavia adesso forse il grafico non è dei migliori quindi ti dico lato investimento ci può stare dipende poi da come lo vedi da come lo ragioni però aggiungerlo a un portafoglio strutturato non è un'eresia secondo me da ribilanciare con pac e quant'altro dipende se lo trovi di valore oppure no quello vedi vedi un po' tu e basta però ci può stare ci può stare il valore c'è il valore intrinseco c'è su cro poi vediamo è possibile che si stia creando un double bottom di bitcoin vediamo speriamo ragazzi che dire che vedevo di qua è tutto da vedere adesso siamo in un range quindi per confermare il double bottom bisogna stornare sopra i 53.000 altrimenti non ce l'abbiamo ancora non ce l'abbiamo ancora come comprare redacted io ho usato one inch one inch con one inch lui ti reindirizza al miglior dex a seconda del pair no tu quindi tu fai non lo so e ti hack a btrfli eccolo e lui vedi ti ti fa il routing con un bel 104 dollari di transazione un affarone direi un grande affare e e basta quindi attenzione alle gas fee c'è poco da purtroppo ragazzi è una veramente una piaga una dannatissima piaga ste gas fee elevate poi ultimamente sono abbastanza alte anche su etereum sono quant'è 160 guai che due balle ragazzi è veramente un delirio trasferire un token 40 dollari swappare 120 dollari cioè porca miseria ma non è possibile non è possibile non ne posso più di ste gas fee maledette e vabbè che fare che fare allora vediamo luca domanda non avendo token posso comunque fornire liquidità ad esempio solo con eth sia puoi ricevere le reward in token assolutamente assolutamente sì 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 se tu vai a dare liquidità alle pool vedi qua fai deposit eth tra l'altro non è neanche male l'apr 10% adesso è salito come mai è salito forse perché è salito il prezzo di token vabbè comunque si puoi depositare i tuoi eth e basta e basta e ricevi l'apr in token quindi assolutamente sì dunque cos'è che vi volevo dire attenzione ai cicli perché poi per fare le reward vengono date a ogni ciclo che al momento dura cosa dura due giorni però a regime dovrebbe durare una settimana un ciclo quindi sia i prelievi che le reward vengono date dopo un ciclo quindi attenzione che per prelevare vedete requested withdrawal will become available after one cycle quindi alla scadenza del ciclo si preleva altrimenti c'è il rischio di vincolo c'è un piccolo vincolo ecco sulla liquidità tienilo in considerazione poi dove metteresti a rendita 10k io avevo pensato 50% crypto.com e 50% anchor anche se sono tentato di mettere tutto su anchor e lì dipende sai il rischio zero non esiste la diversificazione non è una cattiva idea perché si va a diminuire il rischio specifico di una piattaforma crypto.com e anchor secondo me sono due ottime alternative insomma vedi vedi un po' tu vedi un po' tu non posso dare conigli finanziari poi dunque 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 53 minuti ah allora vitalic va il filosofo su twitter invece di sviluppare povero vitalic lasciatelo ballare in pace dai lasciatemelo ballare in pace hai visto che daniele ha creato una coin quale ne ha creato direi abbastanza già di coin direi proprio di sì dunque 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 vtc rimbalza ancora una volta sui 45.5 la reazione è sempre più debole non credi che sia un chiaro segnale di maggiore forza dell'offerta grazie guarda al momento è l'offerta purtroppo è abbastanza sul breve è dominante basti vedere l'ultimo trend vedete tac si vede l'ultimo trend un po' di segni di domanda li abbiamo è però l'offerta guardate qui ha impedito ha spinto in basso adesso sta un po' schiacciando c'è da vedere come reagisce la domanda e speriamo che reagisca un po' bene porca miseria speriamo speriamo perché altrimenti se perdiamo anche questo range non benissimo non benissimo potresti fare un video dedicato solo a tokemak l'ho già fatto l'ho già fatto cercalo cerca tokemak e lo vedi ciao luca mi spieghi i tweet di daniele su vmemo allora vmemo è differente da time ne abbiamo parlato anche l'ultima volta perché time chiaramente è fatto per dampare time ha un apy altissimo viene ribasato in continuazione supply che aumenta a dismisura e quindi selling pressure che aumenta a dismisura vmemo cioè time in staking diventa memo ok quindi memo ha questa cosa vmemo è brappato quindi al posto di fare il rebase aumentare di supply diciamo che incorpora in qualche modo l'aumento di valore di prezzo del rebase quindi se esempio il rebase raddoppia ci fosse un 100% di rebase ti raddoppierebbe il prezzo di vmemo in quel momento lì quindi tu hai da un lato la selling pressure di chi vende dall'altro il diciamo la forza del rebase e quindi hai un prezzo diciamo più onesto perché altrimenti sembra che dumping continuazione ma è sbagliato guardare il prezzo di time perché time continua a fare il rebase questo è un po' il discorso in breve dunque dunque ben delincoracoli in ripresa ma guarda ho visto link oggi che ha spinto come un pazzo e non solo oggi effettivamente link ha fatto un bello un reclaim qua giù tac e adesso se si va a riprendere questa zona così potrebbe essere interessante si ha invertito sta invertendo la struttura dopo una vita perché da quant'è che è da agosto 2000 e da più di un anno che è in storno che sta pagando un po' lo scotto del parabolic uptrend quello è il discorso non ci sono cavoli quando hai un trend parabolico poi ne paghi le conseguenze anche se sei chain link quindi magari adesso ha esaurito un po' la selling pressure e potrebbe ripartire chi lo sa è da monitorare però bravo soprattutto se supera i 6300 assolutamente da monitorare vediamo vedi anche band si andiamo a vedere anche band che l'avevo depennato addirittura band btc va band è ancora più morta ma che price action in guardare sembra una shit coin alla price action di una shit coin veramente brutta non lo so no band mi molto tra i due occhi chiusi i link band non me lo filerei neanche detto con sincerità troppo troppo brutto sto grafico troppo brutto bene amiciotti amiciotti miei che dire che dire shiba devo davvero andare a guardare shiba il grafico devo davvero andare a guardare il grafico di shiba dai andiamolo a vedere solo perché vi voglio bene vediamo vero spunto guarda non proprio è intoccabile questo grafico classico dump da shit coin dopo il pump parabolico e credo che durerà ancora un po' magari di tanto in tanto ci sarà qualche pump sporadico ma insomma credo che l'andamento sarà più o meno questo quindi amici miei con questo diciamo che ci possiamo anche salutare visto che abbiamo quindi conviene tenere memo a wrapparlo cosa cambia non cambia nulla ragazzi se time lo avete in staking avete memo vi aumenta il numero di memo se lo wrappate non vi aumenta il numero di memo ma aumenta il prezzo non cambia nulla nulla mi raccomando mettetevela in testa sta cosa perché è importante cosa ne pensi di psi options ne ho parlato prima molto bullish in generale poi vabbè la unaieo di ftx di cosa stiamo parlando cioè farà 9000 per cos'è romdao romdao ragazzi tanta soddisfazione cioè imprevedibile ma tanta soddisfazione non vi ho fatto vedere v2 pools guardate qua vi fa vedere l'andamento nel tempo dei volumi sui pool curve v2 carino per vedere un po' sarebbe bello anche vedere il tvl ma non non c'è ancora non c'è ancora peccato escluso il precrypto tra l'altro perché qua vedo quelli nuovi però vedete che ce n'è veramente pochi e nonostante ciò 65 milioni di dollari in un giorno di volume cioè più 14 più curve ragazzi c'è poco da fare è il boss curve is the boss il tvl però si può andare a vedere da qua e anche qua diciamo che non ci sono tanti cavoli costante lineare del tipo io qui comando io e se lo si raffronta con quello di uniswap vedete che insomma anche uniswap diciamo che adesso è un triangolo ascendente questo e re e regina sono dai curve uniswap vediamola così benissimo benissimo amici io potresti spiegare cos'è il rebase e ragazzi qui è proprio il funzionamento di base di queste coin che ogni periodo di 8 ore che è un ciclo anche lì viene fatto il rebase in base al numero di bond che sono stati comprati in particolare più o meno facciamo questo arrotondamento per ogni coin per ogni time che è stato venduto tramite bond viene creato un time anche a chi già da mettere in circolo e distribuito a chi ha in staking i time ok quindi se vengono generati mille time venduti con i bond in un giorno ce ne sono altri mille distribuiti agli staker e quindi aumenta la supply questo si chiama rebase bene ragazzotti io vi saluto noi ci rivediamo venerdì direi proprio di sì domani alle 10 ragazzi carichi vi voglio carichi sul pezzissimo assolutamente sul pezzissimo perché annuncio folle domattina ore 10 guai a chi manca vi saluto i grafici li abbiamo già visti quindi non ha senso andare a insomma vederne altri quelli più interessanti li abbiamo già visti link l'abbiamo visto eth l'abbiamo visto sono quelli ormai che comandano un po' le altcoin oggi sono un attimino in sofferenza la dominance tende sempre a prosciugarsi ma lentamente sembra che ci sia voglia nel mercato di fare un altro ciclo rialzista per le altcoin folle come cosa mai visto una roba del genere un'estensione del genere sulle alt mai mai vista amici vi auguro una buona serata noi ci vediamo questo venerdì domani con l'annuncio e col corso di DeFi la puntata successiva sempre sul pezzo vi auguro una buona serata buonanotte a presto un carissimo saluto e ciao a tutti